Alla scala del basket si rivede per un tempo la Trieste battagliera, quella capace di piazzarsi terza in classifica a metà stagione, quella che non guarda in faccia nessuno e propone la sua pallacanestro. Purtroppo la strapotenza milanese, amplificata dal ritrovato Sharon Shields, realizzatore puro designato per la squadra di Messina, che è tutto, meno che una formazione dal centello facile, condanna Trieste a fare da sparring all'Olimpia negli ultimi 15 minuti del match. Il 102-84 finale in realtà non deve essere letto in forma oltre modo penalizzante perché dopo tre sconfitte consecutive contro una big del basket europeo, quella vera, non la brutta copia del match d'andata vinto al DOM, Trieste ha ritrovato almeno in parte la propria identità di squadra. Bene Davis, più centrato nel ruolo di motore della formazione e realizzatore alla bisogna, con vincente Grazzuli, si ispirato in fase realizzativa e in difesa, motivato Campogrande, bravo a mettersi in luce nei minuti che contano. Di fatto, la partita ha proposto battaglia per 20 minuti, con l'Allianz anche sul più 4 nel secondo quarto. Quando l'Armani ha messo in moto l'orchestra, si è materializzato il primo a lungo firmato Rodriguez, Richie, Daniels. Poi, dalle 44 a 40 di metà partita, il Forum ha rivisto lo Shields dei tempi migliori, 12 punti e Milano sul più 11, una facilità imbarazzante di far muovere la retina da ogni posizione. I ragazzi di Ciani non hanno abbassato la testa, Banks e Davis hanno provato a rispondere alle ondate di talento, ma agli esterni dell'Olimpia è andata a sommarsi la concretezza impitturato di Tarceschi, 20 punti per il big man. Troppa ciccia da contrastare in un sol colpo, anche seppure i padroni di casi in difesa non hanno interpretato il messiniano stretto nella propria metà campo. 72 a 60 dopo 30 minuti il parziale, poi l'ulteriore a lungo, frutto di rotazioni infinite per Milano che ha messo la parola a fine al match. Infine, 5 minuti di corri e tira, stile con diamo il referto, pratica che fa felice il pubblico meneghino, un po' meno gli allenatori in panchina. Per Trieste, nonostante la sconfitta, un nuovo punto di partenza su cui costruire la propria ripresa da qui a fine campionato. Grazie.